ciao bimbi vi auguro una buona settimana spero che sia bellissima che voi vi divertiate spero che queste settimane a casa non siano state troppo pesanti per nessuno di voi neanche per le vostre famiglie e so che un periodo un po difficile mi mancate tantissimo non vedo l'ora di rivedervi ve lo assicuro ma mi raccomando a casa non fate disperare troppo le vostre famiglie divertitevi date libero sfogo alla vostra creatività che ne avete tantissima ripassate le cose di scuola vedrete che vi abbiamo messo tanti giochi e ricordatevi sempre bene un'ora al giorno almeno mio sdogno a essere felici in questo caso ancora di più quindi mi raccomando sorridete e abbracciate i vostri genitori un bacio ciao